Tocca a lei. Grace allungò le gambe tra l'erba, scrutando Vivian da sopra le proprie carte. Vivian pescò dal mazzo e posò la carta sulla tovaglia a quadretti che avevano steso a terra, avendo cura di tenerla scoperta. — Tre rosso, dichiarò. Pescò di nuovo. Arthur, le gambe incruciate e i palmi premuti contro le guance, sbuffò. — Perché non posso giocare anch'io? — Primo perché non sei capace, disse Grace prendendo un'altra carta, e secondo perché a canasta si può giocare solo a coppie. In quel momento la Ford di Frank accostò al marciapiede e Arthur si alzò in piedi. — Sono arrivati i nonni! — strillò, correndo a piedi nudi attraverso il prato. Frank scese dal posto di guida e aprì la portiera posteriore, porgendo il braccio alla madre di Celia. Il signor Davis scese dalla parte del passeggero, un uomo alto e dritto, in un completo grigio. Si chinò sulle ginocchia e afferrò tra le braccia Arthur, sollevandolo all'altezza del viso. — Eccolo qui, il mio nipotino preferito! — esclamò, mentre il bambino gli toglieva il cappello e se lo metteva in testa. Vivian si alzò, spolverandosi la gonna dai fili d'erba, e si avvicinò alla carrozzina dove dormiva Margaret, che dal primo giorno tutti avevano iniziato a chiamare Peggy. In quell'orribile treno non si respirava affatto, stava dicendo la madre di Celia, mentre Frank la scortava attraverso il vialetto. La mano fasciata dal guanto, stretta al braccio del genero, la donna sembrava una versione più anziana e scolorita della figlia. Indossava un taglieracqua marina e un cappellino in tinta, decorato di vezzose piume dai toni cangianti. Solo quando le furono dinanzi, la donna sollevò su di lei due occhi freddi, sospettosi, scrutandola da capo a piedi. Vivian si lasciò guardare, per nulla intimorita da quegli occhi. Agli sguardi di disprezzo era abituata da sempre. «Lei è Miss Vivian Meyer, la nostra nanny», disse Frank prima di chinarsi sulla carrozzina. «E questa è Peggy, l'ultima arrivata», sussurrò per non svegliare la bambina. La signora Davis si chinò quel tanto che bastava per rivolgere un breve sguardo alla nipote. «Oh, Frank, è deliziosa», cinguettò, prima di tornare a fissare i propri occhi in quelli di Vivian. «È un piacere, Miss Meyer. Mia figlia mi dice che lei è molto brava e sai il cielo quanto sia complicato di questi tempi trovare del buon personale di servizio». Vivian incassò la stoccata, travestita da complimento, e accennò un sorriso. «Così dicono. Grace, non vieni a dare un bacio alla nonna?» Grace si avvicinò e con la consueta indolenza posò un bacio sulla guancia imbellettata della signora Davis, che si sporse a farle una carezza tra i capelli, in un modo che Vivian trovò del tutto affettato. Ogni cosa in quella donna risultava artefatta e Vivian non tardò a riconoscere alcuni degli atteggiamenti più spiacevoli di Celia in quelli di sua madre. Le mani strette al manubrio della carrozzina si avviò verso casa, cercando di scrollarsi di dosso la sensazione che anche Marie continuasse a parlare attraverso di lei, che attraverso di lei continuasse a imporre la propria volontà. Celia andò incontro ai genitori, indossando un abito ampio e un paio di ballerine consumate. «Che bello avervi qui!» disse. E mentre il padre la stringeva tra le braccia, la madre le rivolse un'occhiata colma di rimprovero per il suo abbigliamento sciatto. «È inutile che mi guardi così, mamma. Questo è l'unico abito che mi entra per il momento». «Non ho detto nulla», si giustificò la signora Davis, sfilandosi i guanti. «Ma lo hai pensato, tesoro? Si arrivi ad esumerlo, forse sai da sola che lasciarsi andare in questi casi può essere molto pericoloso», disse a bassa voce, lanciando un'occhiata eloquente a Frank, che stava servendo da bere al suocero. Celia si portò i capelli dietro l'orecchio, un gesto in cui Vivian aveva imparato a riconoscere il suo nervosismo. «Avete già conosciuto Peggy?» disse Celia, avvicinandosi alla carrozzina e prendendo la bambina tra le braccia. Interrotta nel sonno, la neonata accartocciò il volto in una smorfia prima di erompere in un pianto disperato. Celia la cullò, picchiettandole la mano sulla schiena, ma sua figlia seguitò a urlare con tutto il fiato che aveva nei polmoni. Alla fine, frustrata, la rimise nella carrozzina, mentre ancora strepitava. «Può portarla in camera sua, Miss Meyer?» disse, brusca, rivolta a Vivian, che si fece avanti con aria impassibile. «Certo, signora». Salendo le scale, Vivian provò ad acquietare il pianto della bambina, e nel farlo si disse che voler recidere ogni legame con la sua famiglia o con ciò che ne rimaneva era stata la decisione più saggia della sua vita. Carl e Marie smisero di rivolgersi la parola. Solo di tanto in tanto uscivano dalla trincea del silenzio per scagliarsi addosso parole dai bordi affilati come cocci rotti. I muri assorbivano la rabbia, i vetri tremavano sotto il fuoco incessante delle offese e sottili crepe avevano iniziato a tendersi sulle pareti ogni volta che qualcuno sbatteva una porta. Cercava di non badarci. Per la prima volta la rabbia di sua madre non era indirizzata a lei. Non era lei il problema. Al contrario, si sentiva svanire ogni giorno di più in quella casa che era diventata terreno di battaglia di una guerra che infuriava tra antichi rancori e incapacità di perdonare. Da Marie, Carl aveva ereditato l'intolleranza, la mancanza di compromesso. Dentro aveva gomitoli di rabbia di cui non veniva mai a capo. La collera gli accendeva rossori sul collo e sulle guance. Gli sporcava lo sguardo facendogli stringere le dita in pugni che non rilasciava mai. Marie urlava dalla mattina alla sera. Accusava suo figlio di essere un ingrato, di averle rovinato la vita venendo al mondo. Vivian si tappava le orecchie, la fronte contro il muro e il desiderio di fuga che giorno dopo giorno prendeva forma dentro di lei. Sempre più spesso guardava la porta di casa come si scrutano le sbarre di una prigione, avvertendo il desiderio di scendere le scale e confondersi tra la folla, per strada. Di allontanarsi per sempre da quella vita e dalle persone che la abitavano. Sentirsi libera da qualunque vincolo o legame. Per la prima volta dopo tanti anni, Vivian voleva avere Jeanne accanto a sé. Di lei conservava ricordi tanto nitidi che le pareva di averla lasciata solo il giorno prima. La treccia di capelli disordinati, le dita lunghe delle mani, il modo in cui chiudeva un occhio per guardare nel mirino della macchina fotografica. Un giorno, mentre tornava dalla scuola pubblica a cui Marie l'aveva iscritta, Vivian si fermò davanti a una vetrina dove stavano esposte come sentinelle sull'attenti diverse macchine fotografiche. Il palmo stretto al manico della cartella era rimasta a guardare gli obiettivi lisci e convessi che riflettevano il suo volto, frammentandola in decine di Vivian. Forse una di loro sarebbe riuscita a salvarsi, pensò, lanciando un'occhiata ai cartellini del prezzo, numeri che le rendevano impossibile anche solo l'ingresso in quel negozio. Tornata a casa, trovò soltanto silenzio. Oltre le finestre, una pioggia sottile aveva iniziato a cadere, impastando la polvere sui vetri. Vivian si avventurò nel corridoio buio, passando davanti alla porta di Carl. Due settimane prima, suo fratello aveva messo un chiavistello per impedire a Marie di fare incursione nella sua stanza. Vivian lo aveva aiutato, ripulendo il pavimento dai truccioli di legno e restando a guardare, ammirata, mentre suo fratello oliava il catenaccio e lo faceva scorrere nella base. Un bruciante senso di invidia si era fatto strada in lei, al pensiero che da quel momento Carl avrebbe goduto di uno spazio privato, da cui poteva escludere il mondo intero, lei compresa. Vivian, al contrario, a tredici anni si vedeva ancora costretta a dividere il letto con la madre, una madre che desiderava solo scrollarsi di dosso come pelle vecchia, per evolvere, per diventare altro. Marie rientrò quando il cielo aveva assunto una sinistra sfumatura gialla. Posò sul tavolo la borsa della spesa e sciolse il fular che avevano dato sotto il mento. Vivian notò l'impermeabile stropicciato e logoro. Le scarpe coperte di polvere e le rughe sempre più marcate ai lati del naso e si domandò se sarebbe diventata così alla sua età. Quel pensiero la terrorizzava. «Che hai da guardare?» domandò sua madre, brusca. «Non hai niente di meglio da fare che startene qui con le mani in mano? Aiutami con questa!» concluse indicando la sporta. Controvoglia, Vivian la aiutò a sistemare le poche cose che aveva comprato. Un filone di pane scuro, un pacchetto di lenticchie, quattro uova e una bottiglia di latte. Da qualche mese Marie lavorava in una fabbrica, un impiego che la spiancava e la faceva tornare a casa con gli angoli della bocca piegati all'ingiù e gli occhi iniettati di sangue. Marie scostò una sedia e sedette. Dalla tasca del vestito tirò fuori un pacchetto di sigarette e ne infilò una in bocca. «Passami un fiammifero», disse, rivolta a Vivian. Dopo la prima boccata rimase a osservare il fumo che si disperdeva nella cucina piccola e ombrosa. Carl se n'è andato. Le parole echeggiarono tra le pareti per alcuni secondi e caddero a terra con un boato. Vivian sobalzò prima di rendersi conto che il rimbombo arrivava in realtà da oltre i vetri. Le nuvole sospese tra i palazzi erano attraversate da lampi. «Dove?» «Ho rinunciato alla custodia, non lo so dove è andato». La voce di Marie fu un fendente dritto in volto. La pioggia iniziò a scrosciare contro i vetri e Vivian vide il proprio riflesso attraversato da piccoli torrenti che si gettavano nel vuoto. Nei suoi occhi non scorse tristezza, solo muta rassegnazione, quella che sempre accompagna la delusione. «Qui non poteva più stare, lo capisci?» Vivian non reagì. Rimase lì, immobile, mentre fuori infuriava il temporale. Le parve appropriato la furia della natura contro il silenzio che aveva dentro, un silenzio che assumeva sempre più il sapore della consapevolezza. Ora sapeva cosa fare. «Io ho fatto del mio meglio», proseguì Marie, in un patetico tentativo di giustificarsi, mentre la sigaretta le si consumava fra le dita. Vivian sollevò lo sguardo su di lei. «Vado via anch'io». «Cosa? Qui non ci voglio più stare. Non dire sciocchezze. Ora che Carla se n'è andato puoi prenderti la sua stanza. Avremo più spazio. Io non voglio più vivere con te». Marie si lasciò ricadere contro lo schienale della sedia, schiacciando il mozzicone contro la gamba del tavolo di formica. Poi scosse la testa ed eruppe in una risata stridula. «Ma sì, sai cosa ti dico? Vattene anche tu, così sarò libera finalmente. Due figli disgraziati mi dovevano capitare. Avanti! Che cosa aspetti? Vattene! Vattene via! Via da questa casa!» Le sue urla la accompagnarono, mentre correva lungo il corridoio, fino alla camera da letto, dove afferrò poche cose alla rinfusa. La maggior parte le caddero di mano mentre apriva la porta e infilava le scale, scendendo i gradini di traverso per riuscire a farne due o tre alla volta, spallancando il portone di ingresso dopo averci sbattuto contro con i palmi delle mani, trafelata. La pioggia le arrivò addosso come una frustata, le incollò i capelli e la camicia al corpo. Su di lei incombevano palazzi e scale di metallo, nubi urlate di buio e squarci d'azzurro. Vivien si leccò le labbra con la lingua, annichilita dal peso dell'acqua che scrosciava senza pietà. Non le importava se avrebbe scontato il prezzo della libertà con la solitudine. Per lei, i legami significavano solo strappi dolorosi e delusioni. Le sembrava ragionevole rinunciarci in favore di una volontaria emarginazione, che l'avrebbe tenuta al riparo da qualunque disinganno, da ogni prevaricazione. Scrollò le spalle e attraversò la strada, sferzata dall'acqua battente. «Miss Meyer?» Arthur, la guancia sprofondata nel cuscino, la osservava con gli occhi sgranati. «Dimmi, Arthur, che cosa è il talento?» Vivien ha chiuso il libro che stava leggendo e lo appoggiò sulle ginocchia. Alla fiocca luce della lampada, i volti dei bambini le apparivano di un pallore spettrale. «Il talento è la capacità di fare bene qualcosa senza sforzo. Qualsiasi cosa? Qualcosa per cui si è predisposti. Cosa significa predisposti?» Vivien sapeva che spiegare qualcosa di astratto a un bambino era un compito difficile. «Mettiamola così», disse, incrociando le braccia. «Il talento è qualcosa che sai fare senza che nessuno te lo abbia insegnato. È un dono o qualcosa del genere. Un dono di Dio? Se ci credi, sì. Lei ci crede? No, ma questo è irrilevante». Vivien si morse le labbra per non dire quello che davvero pensava, ovvero che, se mai il talento fosse stato riconducibile a qualche divinità, doveva trattarsi di un Dio con uno spiccato senso della crudeltà. Non conosceva nessuno che non si fosse bruciato con il proprio talento, che non ne fosse stato consumato. E se non era andata così, era perché non si trattava di talento, ma di semplice virtuosismo. Dimentica quello che ti ho detto, Arthur. Il talento è qualcosa di molto pericoloso. «È meglio viverne sprovvisti, credimi». «Allora papà è salvo? L'ho sentito dire che lui, di talento, non ne ha nemmeno una bricola. Pensavo fosse una cosa da mangiare». Dopo aver lasciato i bambini, Vivien si chiuse la porta della propria stanza alle spalle e percorse la sottile striscia di pavimento lasciata libera dai giornali fino a raggiungere il bagno. Le mani appoggiate al bordo del lavandino fissò gli occhi nei propri attraverso il riflesso dello specchio che lo sormontava. Lei lo possedeva, il talento? Era quello a morderle la carne, a non lasciarle tregua? La donna, che le restituì lo sguardo, aveva un'aria severa, un'espressione disillusa. Piegando il busto, si avvicinò ancora, quasi a voler penetrare la propria immagine. Scorse i pori della pelle, le ciglia sottili, ogni piega lasciata dallo scorrere del tempo. Le iridi azzurre erano contornate da un bordo più scuro. I capelli cadevano flosci ai lati del viso. Vivien li spostò con un gesto della mano, poi accostò il palmo alla superficie dello specchio. «Chi sei?» murmorò, sfiorando il proprio riflesso con la punta delle dita. «Vivien», rispose la donna di fronte a lei. Chiuse gli occhi, inspirando. Si sentiva altro da sé, una sconosciuta che attraversava pareti di specchi lasciandosi dietro null'altro che impressioni destinate a sgretolarsi come sabbia lambita dal vento. Lei non esisteva, non era mai esistita, le persone non ricordavano il suo volto, il suo nome non era mai lo stesso. Solo nello scatto viveva, diventava reale, per poi tornare a essere l'invisibile creatura a cui nessuno rivolgeva una seconda occhiata. Prese la lampada del flash. Le capitava di rado di usarla. Le pareva che usare una luce artificiale per scattare fosse un imbroglio bellebuono, un gioco da dilettanti. Sostituì la lampadina usata con una nuova, poi puntò la lampada verso l'alto, tenendo il braccio teso sopra la testa. Nello specchio, grazie a un gioco di riflessi, riusciva a vedersi di fronte e di spalle. Due Vivian che si riflettevano all'infinito, scomponendosi in decine di donne che indossavano tutte la medesima camicetta gialla. La rolleflex nella mano destra. Vivian sollevò lo sguardo verso il soffitto bianco su cui la luce sparata dal flash avrebbe rimbalzato, illuminando le pareti blu del piccolo bagno sprovvisto di finestre ed esorcizzando, per un breve istante, tutto il buio che si portava addosso. Mi serve un giorno di permesso. Celia alzò lo sguardo dalla rivista di moda che stava sfogliando, appoggiando sul tavolo la tazza del caffè. Quando? Oggi. La signora Davis, che sedeva accanto alla figlia, aggrottò le sopracciglia mentre finiva di imburrare una fetta di pane tostato. Mi sembra irrispettoso da parte sua a Vivian chiedere un permesso con così poco preavviso, disse, scuotendo la testa. Vivian non si scompose, restando immobile accanto al tavolo, le braccia lungo i fianchi. C'è qualche problema? domandò Celia, ignorando il commento della madre. No, mi serve solo un giorno di permesso. Celia si morse le labbra. Vivian sapeva che il suo atteggiamento la indisponeva, ma non riusciva a fare altrimenti. Non riusciva a essere diversa da ciò che era, soltanto per compiacere qualcuno. D'accordo, disse infine Celia, ignorando l'occhiata che le rivolse la signora Davis. Mi organizzerò con i bambini in qualche modo, ma la prossima volta la pregherei di avvisarmi con un po' di anticipo. Lo avrei fatto, se avessi saputo in anticipo di avere bisogno di un giorno di permesso, rispose Vivian, caustica, prima di voltarsi e lasciare la stanza dove si fermò dietro la porta. È del tutto fuori luogo che tu ti faccia trattare così da una persona di servizio, disse la signora Davis dopo qualche istante di silenzio. È la prima volta che chiede un permesso, non potevo negarglielo, avrà avuto un'emergenza familiare. Non avevi detto che era senza famiglia? Sì, ma in effetti non ne ho la minima idea, non ha mai detto niente di sé. Passò qualche secondo e Vivian si convinse che il discorso fosse esaurito. Quella Maier sembra arrivare direttamente da una fabbrica dell'Unione Sovietica. Sai come la chiamano i ragazzini del quartiere? Me lo ha detto Grace, la signora Scarpone, per via di quelle orrende scarpe con i lacci che indossa sempre, disse la signora Davis, con tono di biasimo. Certo, per te è la soluzione ideale. Con tuo marito tutto il giorno a casa, assumere una donna graziosa e affabile sarebbe stato poco saggio. Con la Maier di certo non corri rischi. Seduta nello scompartimento del treno, che da Long Island la stava portando in Connecticut, Vivian lasciò vagare lo sguardo oltre il finestrino, dove scorreva un paesaggio confuso e frammentato. Faceva caldo e la camicetta le si era incollata addosso. Tra le dita stringeva la lettera che Jeanne le aveva inviato mesi prima e che lei aveva ignorato, seppellendola tra la carta che quotidianamente accumulava. Le sue parole, così affettuose, così piene di premura, erano affondate come una lama dove credeva di avere ormai solo cicatrici dure e resistenti e invece aveva scoperto che la carne era tenera e sanguinava. Ci aveva provato a lasciarsi tutto alle spalle, a fare della solitudine una corazza con cui difendersi dal mondo, ma era una corazza imperfetta in cui si aprivano di continuo crepe e fenditure, una corazza che aveva il peso gravoso di un'armatura di piombo e la consistenza fragile del vetro. Vivian non era certa di come Jeanne l'avrebbe accolta, erano passati molti anni dal loro ultimo incontro e in quegli anni Vivian non aveva mai scritto né si era in alcun modo fatta viva. Ormai abituata a diffidare, era rimasta lontana da vecchi amici e conoscenze nell'illusoria convinzione che il passato avrebbe smesso di tormentarla, ottenendo al contrario l'effetto di una lunga e insopprimibile eco. Vivian estrasse la roleyflex dalla borsa, trovando conforto nel peso familiare della macchina fotografica, nel cuoio consunto della custodia. Se non fosse stato per Jeanne, non avrebbe saputo che farsene della vita. Ricordava ancora con estrema nitidezza il momento in cui le aveva messo in mano per la prima volta una macchina fotografica, donandole uno scopo, salvandola dal supplizio di un'esistenza priva di autentica passione. Eppure, allo stesso tempo, Vivian non riusciva a scrollarsi di dosso l'impressione che Jeanne l'avesse, in qualche modo, inchiodata ai suoi demoni, che in quel gesto fosse racchiusa l'amara consapevolezza che proprio il talento, alla fine, annienta chi lo possiede. Quella mattina le era apparsa insopportabile l'idea di affrontare un'altra giornata senza levarsi quel dubbio, il dubbio che Jeanne le avesse acceso quel fuoco dentro cosciente del fatto che il suo dolore, filtrato dall'obiettivo, sarebbe stato lo specchio del dolore di Vivian, come un marchio indelebile apposto per troppo amore. Mentre il treno ralentava sui binari, entrando in stazione, Vivian percorse il corridoio sbirciando in ogni scompartimento. Le poche persone rimaste sul convoglio si stiracchiavano, gli uomini indossavano i cappelli che avevano appoggiato sui sedili, le signore lasciavano le pieghe sulle calze di nylon e si ritoccavano il trucco, tutti recuperavano i bagagli dalle cappelliere. Nell'ultima carrozza Vivian si imbatté in una coppia addormentata. Ignari di tutto, un uomo e una donna di colore dormivano abbracciati, le mani di lui strette attorno alla vita di lei, quasi vi fosse aggrappato per non annegare, per non lasciarla sfuggire. Vivian si interrogò sulla loro vita, domandandosi da dove venissero, dove fossero diretti. Non avevano bagaglie con loro. Lui aveva le maniche della camicia arrotolate, lei indossava un abito da poco con una stampa floreale. Il loro stato di abbandono, la fiducia che sembravano riporre l'uno nell'altra, la spinsero ad aprire la custodia della roleyflex e a inquadrarli. Prima di scattare, Vivian si domandò se fosse quello l'amore. Lei non aveva mai permesso a nessuno di abbracciarla in quel modo. Il solo pensiero anzi era in grado di provocarle un profondo senso di disagio. Nonostante questo, nonostante le fosse impossibile immedesimarsi nella donna che aveva davanti, Vivian avvertì l'urgenza di impadronirsi di quel momento. Era uno strano modo di vivere, il suo, lo riconosceva. Il vetro attraverso cui guardava il mondo la teneva al sicuro, le consentiva di appassionarsi agli altri, alle loro vite, senza obblighi di emulazione, senza tentare il tutto per tutto per avere uno spicchio di felicità, come se essere felice fosse un dovere, un desiderio collettivo a cui aspirare. Oltre il finestrino sfilavano alberi e stralci di nuvole. Vivian scattò. In stazione prese un taxi e raggiunse l'indirizzo che Jeanne aveva indicato sulla busta, una piccola spesa extra che le avrebbe consentito di guadagnare tempo dopo il lungo viaggio in treno. Vivian diede la mancia al tassista, scese dall'auto e si avventurò sul lungomare, attratta dalla schiera di villette colorate che si affacciavano sulla strada. La casa di Jeanne aveva tende alle finestre e un piccolo portico. L'erba del giardino era bruciata dal sole e dalla salsedine. Sugli scalini che portavano all'ingresso erano collocati alcuni vasi di terracotta sbiaditi dove non cresceva nulla. Vivian sentì il ghiaietto scricchiolare sotto le suole delle scarpe. Il vento le portava l'odore salmastro del mare scompigliandole i capelli. Le mani nelle tasche della giacca si fermò nel riquadro d'ombra gettato dalla facciata scrutando la casa quasi fosse una bestia selvatica di cui diffidare. I legami tra le persone pensò erano ciò che rendeva il mondo un posto così complicato. Abituata sin da bambina a dire addio a quelli che amava aveva ritenuto di poter praticare tagli netti e indolori senza fare i conti con l'irrazionalità insita in ogni essere umano con i sentimenti. Da solitaria qual era diventata ricercava in maniera ossessiva ciò che annodava tra loro le famiglie gli amanti o anche solo gli sconosciuti che si incrociavano in una strada. I punti di sottura che ricucivano gli strappi gli orli slabrati dolenti le misteriose congiunture le storture le incomprensioni che separavano a volte per sempre. tentando di trovare negli altri ciò che non poteva desiderare per se stessa. Vivian si voltò dando le spalle alla casa all'improvviso le mancava il coraggio così come era accaduto a Marie davanti alla porta di Nicolas in quella che le pareva un'altra vita. Allora aveva giudicato sua madre una codarda ora capiva che dagli altri si cercano sempre e solo risposte ma di quelle risposte di quello che potrebbero svelare di noi si ha in fondo un inesprimibile terrore. Vivian abbassò lo sguardo alla propria ombra che si allungava sul vialetto una foglia secca reduce di un autunno ormai lontano se ne stava lì al posto del suo cuore i bordi arricciati prossimi a sbriciolarsi ne facevano una superstite ostinata qualcuno che non vuole cedere all'evidenza si infilò la rolleflex al collo mettendo a fuoco attraverso la lente quella fragile creatura che sopravviveva in una stagione che non gli apparteneva sapevo che saresti venuta prima o poi sollevando lo sguardo dal pozzetto Vivian scorse dinnanzi a sé un'anziana signora con un caschetto di capelli grigi e un paio di occhiali tondi dalla montatura spessa le ci vollero alcuni istanti per sovrapporre l'immagine che conservava di Jeanne alla donna che aveva davanti lo sguardo pensò lo sguardo era rimasto lo stesso diretto sfrontato pieno di curiosità Vivian richiuse la custodia della rolleflex osservando Jeanne che avanzava lentamente verso di lei con la sporta della spesa appesa al braccio una rolleflex biottica ottima scelta approvò Jeanne guardando la macchina fotografica ti aiuto disse Vivian ignorando il suo commento e facendo un passo avanti Jeanne sorrise ora sei tu che te ne vai in giro a scattare foto mentre io faccio cose da vecchia signora la vita è davvero una ruota si sale e si arriva alla fine e poi qualcuno prende il tuo posto Vivian si bloccò le pareva che Jeanne le avesse letto nella mente mi sei mancata Viv entra che ti preparo un caffè scommetto che lo bevi amaro e poi spionno ediziskina una ruota Grazie.